Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza una risoluzione di apprezzamento per i risultati conseguiti nel corso del 2020 dal difensore civico della Toscana Sandro Vannini. La risoluzione, illustrata in aula dal Presidente della Prima Commissione, Giacomo Bugliani, contiene l'impegno a proseguire l'attività di apertura di sportelli decentrati sul territorio e a sostenere le attività di conciliazione, sia in collaborazione con l'autorità idrica toscana per il servizio idrico, sia nell'ottica di avvio di analoghe forme di conciliazione nei settori delle energie elettriche e del gas. È poi stato approvato all'unanimità un ordine del giorno presentato da Marco Stella di Forza Italia per vagliare attentamente le risorse destinate all'attività del difensore civico in un'ottica di maggior sobrietà e corretta spesa del denaro pubblico. Il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione relativa all'attività svolta nel 2020 dal difensore civico regionale. Un'attività che è proseguita nonostante l'emergenza sanitaria. Il difensore civico ha garantito per tutta l'emergenza sanitaria anche una presenza fisica presso gli uffici. E bisogna riconoscere che le istanze che i cittadini toscani hanno rivolto al difensore civico nel 2020 sono state in numero anche maggiore rispetto agli anni precedenti. Si è lavorato anche per un contingentamento dei tempi finalizzati a dare delle risposte alle istanze dei cittadini e si è molto sviluppato l'apparato conoscitivo del difensore civico in tutto il territorio regionale sia attraverso un'adeguata campagna informativa sia attraverso l'apertura di sportelli decentrati presso alcuni territori della nostra regione per rendere più prossimo il contatto tra il cittadino e l'istituto della difesa civica regionale. Il difensore civico regionale toscano si distingue da sempre per intervenire in materia della responsabilità professionale soprattutto di carattere sanitario per l'intensa attività svolta in sede di commissioni conciliative miste presso le aziende sanitarie e anche per essere stato determinante nella risoluzione di parecchie controversie collegate al servizio idrico e in prospettiva ci si avvia ad una fase in cui il difensore civico possa arrivare anche attraverso un accordo con AIT a gestire le controversie collegate alle altre utenze come luce e gas. Per queste ragioni auspicando anche che si possa svolgere tutta quella attività indispensabile per arrivare alla costituzione della figura del difensore civico nazionale il consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza la risoluzione contenente la relazione del 2020 del difensore civico regionale. Esprimo soddisfazione per l'attività che posso dire per quanto riguarda la mia provincia ho seguito in parte anche da vicino perché è stato aperto uno sportello decentrato in Valdichiana, Retina, Castiglio e Ferentino. Siamo arrivati a 10 sportelli dove i cittadini oggi possono portare le loro richieste. Ho sollecitato il difensore civico per i problemi della telefonia nella montagna cortonese, il Digital Divide. Ho segnalato i disservizi per quanto riguarda la mancanza di corrente elettrica in un'area della Valdichiana, Manciano, comune di Castiglio e Ferentino. Posso dire che sta diventando sempre più importante la funzione del difensore civico anche in tema di sanità che diventa quanto mai attuale anche se non sono siglate ancora tutte le convenzioni con le aziende ospedaliere ma anche quella di Pisana e il Meyer. Posso dire che è brillante il lavoro del difensore civico per quanto riguarda la conciliazione presso a Rera, presso all'autorità idrica toscana. Ci sono sicuramente degli aspetti da affrontare, quella di cercare di favorire sempre più la conoscenza di questo istituto anche tra i giovani, che poi non mancherebbero i problemi anche per i giovani, non ci sono soltanto le bollette da pagare, ma ci sono anche ad esempio il problema delle borse di studio. Occorrebbe farsi che si conoscesse sempre di più questo istituto e noi vogliamo questo. Stiamo cercando di dare il contributo fattivamente. È sempre più attuale anche l'esigenza di arrivare a una armonizzazione delle varie legislazioni regionali e finalmente di un adeguamento anche della legislazione regionale toscana e non posso che condividere anche le esigenze che ci siano anche le adeguate risorse personali perché sono avvenuti alcuni pensionamenti che occorre quindi provvedere a riguardo. Il difensore civico ha fatto un grandissimo lavoro, ha svolto un lavoro straordinario soprattutto nelle attività di conciliazione, di mediazione. Lo ha fatto sia in ambito sanitario quando nell'azienda sanitaria si è posto come interlocuzione dei soggetti deboli, fruitori del sistema sanitario per trovare livelli di conciliazione. Lo ha fatto soprattutto al cospetto delle autorità idriche e lo potrà fare, come ho chiesto io, nei prossimi anni anche come interfaccia del settore energetico e del settore delle multiutility. Quindi serve qualcuno che aiuti il più debole a difendersi da questi macro soggetti economici che ormai non sono più radicati o presenti nella porta accanto di un territorio ma che magari è molto difficile anche con i quali parlarci, difendere il cittadino al cospetto della varietà dei multi servizi che oggi una persona deve fruire e quindi a mio avviso finora il lavoro è stato svolto molto bene e abbiamo chiesto di continuare a farlo e di investire anche su questi altri settori. Il difensore civico continua a essere un'istituzione molto importante per la regione toscana e gli appunti che sono stati fatti naturalmente ne abbiamo preso atto e però rimane comunque sia uno dei baluardi per la difesa del cittadino specialmente in questi momenti. Quindi è importante riuscire a collaborare insieme. Non siamo assolutamente soddisfatti, lo abbiamo evidenziato, lo abbiamo detto in aula, lo abbiamo detto con grande forza. Il difensore civico per noi sta sbagliando indirizzo, fra l'altro ci sono delle voci che non ci tornano assolutamente. Abbiamo visto che ci sono delle spese per buffet, 2.137 euro per un buffet offerto a Siena a 100 persone. Abbiamo visto che c'è una spesa di 900 euro per un convegno ad Arezzo dove è stato offerto un altro light lunch. Abbiamo visto che ci sono spese per 20.000 euro per una consulenza in comunicazione. Abbiamo visto che c'è un'altra consulenza per 9.700 euro per un'altra consulenza in comunicazione. Abbiamo visto che negli ultimi anni, cioè da quando è entrato, si è insediato questo difensore civico, nel 2018, nel 2017, le spese per l'attività erano 2.137 euro, 2.400 euro. Oggi, nel 2018, siamo arrivati a spendere 40.000 euro, con uno stipendio da 63.000 euro e con 12.000 euro di rimborsi anno. Ecco, tutti questi numeri non ci tornano a noi. Per questo abbiamo votato contro alla relazione e, fra l'altro, abbiamo votato contro anche perché i numeri danno torto a questo difensore civico. Le pratiche sono meno, sono 1.536, quindi meno di quelle che venivano fatte nel 2017, nel 2016 o nel 2015. A fronte di tutto questo abbiamo queste spese. Non certo chiediamo al difensore civico di fare buffet, di fare light lunch, di spendere in comunicazione. Noi vogliamo un difensore civico che risponda ai cittadini, che lo faccia in tempi certi e non che spenda i soldi dei contribuenti in comunicazione. In Consiglio regionale è stato rinviato l'insediamento della Commissione Speciale per il supporto, monitoraggio e controllo della campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 perché la Commissione Speciale sulla campagna vaccinale in Toscana non è riuscita ad esprimere una maggioranza per la nomina dell'ufficio di presidenza. Sarà dunque l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale a proporlo. La maggioranza aveva presentato una lista con le candidature di Enrico Sostegni del PD presidente, Marco Landi della Lega vicepresidente e Andrea Vannucci del PD segretario e questore. L'opposizione proponeva invece Marco Landi come presidente, Stefano Scaramelli di Italia Viva come vicepresidente e Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle come segretaria, ma Scaramelli ha rifiutato la proposta dell'opposizione e non ha partecipato al voto con la motivazione di non essere interessato alle poltrone. Il suo atto ha comportato il ritiro della lista. Al voto sono andate allora due liste, quella della maggioranza rimasta invariata e quella delle opposizioni, che ha riproposto Landi Dennoferi come presidente e segretaria e Vannucci come vicepresidente. Nella prima votazione i consiglieri hanno espresso 5 voti a favore della lista della maggioranza e 4 a favore della lista delle opposizioni. Scaramelli non ha partecipato al voto. Essendo però necessaria la maggioranza dei tre quinti, si è dovuto procedere a una seconda votazione, che si è conclusa col medesimo risultato. Anche in questo caso la maggioranza, quella richiesta era di 6 voti, è risultata non sufficiente per l'insediamento dell'ufficio di presidenza della Commissione. Al termine del voto il consigliere di Forza Italia Marco Stella ha annunciato che con una lettera al presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo avrebbero assegnato le dimissioni dalla Commissione. La Commissione speciale è stata proposta dall'opposizione. Noi lo abbiamo approvata perché riteniamo che ogni strumento che ha uno scopo propositivo di monitoraggio, di suggerimento, che possa coadjuvare e supportare il Presidente e la Giunta per fare una migliore campagna di vaccinazione ci ha trovato e ci troverà sempre d'accordo. Dopodiché siamo andati in Commissione, abbiamo fatto una proposta che comprendeva il Presidente Enrico Sostegni facendolo coincidere con quella della Commissione Sanità perché in questo momento parlare di sanità significa soprattutto occuparsi dei vaccini da fare bene e il prima possibile. Abbiamo fatto una proposta di Vicepresidente che è il portavoce dell'opposizione che aveva accettato questa Vicepresidenza, dopodiché l'opposizione non l'ha più votata. Quindi noi non comprendiamo come questo possa accadere se non per una schizofrenia legata probabilmente a posizionamenti, a divisioni della minoranza perché una parte non aveva già partecipato alla Commissione Speciale, cioè una parte ha dato l'ok per quanto riguarda una proposta che prevedeva la Vicepresidenza al loro appannaggio e poi non la si vota. Quindi mi sembra che più che parlare di divisione della maggioranza si debba parlare di schizofrenia da parte della minoranza. La Commissione sarà oggetto di un vertice provvisorio che l'Ufficio di Presidenza voterà e dopodiché credo che debba partire al più presto. È chiaro che comunque c'è una Commissione Sanità che sta lavorando, sta lavorando in maniera sistematica, sta lavorando bene e quindi credo che noi andiamo avanti e andiamo avanti dando tutto il supporto possibile alla Giunta e al Presidente. Il nostro è stato un atto generoso, quello di votare uno strumento che ampliasse la partecipazione comprendendo tutte le rappresentanze del Consiglio che ne hanno voluto far parte se ci hanno ripensato il problema credo sia soprattutto un problema di coerenza da parte loro. Noi abbiamo presentato la nostra lista, abbiamo chiesto che il Presidente della Commissione Speciale lo facesse Marco Landi, abbiamo dato un nome della maggioranza come succede per il Vicepresidente e abbiamo chiesto che il Segretario Questore lo facesse Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle. Quindi noi abbiamo portato la nostra proposta di ufficio di Presidenza che evidentemente ha scaturito qualcosa all'interno della maggioranza per cui poi Scaramelli non si è sentito nemmeno di votare sostegni. Quindi il problema evidentemente è tutto afferibile alle dinamiche che purtroppo vediamo accadere dall'inizio della legislatura all'interno della maggioranza. Io dico solo che noi eravamo pronti il giorno dopo per partire con questa Commissione Speciale perché riteniamo che i disagi debbano essere risolti e che ciascuno di noi possa portare un contributo. Lo abbiamo detto, ci abbiamo messo la faccia, ci vogliamo mettere anche il nostro lavoro perché cose come quella successa stamattina non devono più succedere, portali che non funzionano. Vediamo che purtroppo la Toscana è l'ultima per la vaccinazione dei sessantenni. Ecco ci sono tante cose ancora da risolvere. Noi vogliamo dare un contributo ma evidentemente le lotte interne alla maggioranza fanno in modo che si ritardi la creazione della Commissione ma evidentemente anche l'istituzione della stessa. A noi ci dispiace però io credo che la politica debba guardare anzitutto al bene dei cittadini. Purtroppo in questo momento oggi abbiamo visto un brutto spettacolo che non ci fa portare il nostro contributo, il contributo che tante persone per bene ci chiedono tutti i giorni. Adesso c'è l'ufficio di Presidenza che è riunito, cercheremo di capire cosa deciderà il Presidente Mazzeo. Certo è che noi rimaniamo fermi al fatto che pensiamo che quella Commissione sia utile se lavora. Se deve essere motivo di spaccatura interna alla maggioranza e questo non ci consente di farla lavorare come noi abbiamo chiesto e come pensavamo potesse fare, a quel punto dovremmo trarre le nostre conclusioni e dovremmo chiedere alla maggioranza se ancora hanno intenzione di portare avanti pertanto quello che è il teatrino delle poltrone, delle votazioni, assessori sì, non assessore no, allargamento dell'ufficio di Presidenza o se si intende veramente lavorare per i toscani perché il tema è tutto qui e si riduce proprio a questo. La volontà di metterci la faccia, di dare un contributo e di lavorare. Purtroppo oggi siamo ancora fermi al palo dopo un mese dalla richiesta dell'istituzione di questa Commissione. Il tempo passa e i disagi rimangono. Noi abbiamo chiesto un Presidente, un Presidente nostro, riteniamo che la scelta legittima fatta dal PD di rimettere in Commissione vaccini gli stessi componenti della Commissione Sanità sia un po' una sorta di presa in giro nei confronti dell'opposizione perché noi pensiamo che questa Commissione debba essere autonoma, indipendente e debba lavorare seriamente. Se invece si ritiene di fare un doppione da parte della maggioranza perché in opposizione siamo tutti membri che non sono all'interno della Commissione Sanità e crediamo che o loro anche qui hanno trovato dei disagi a mettersi d'accordo per scegliere i componenti della Commissione o altrimenti la vogliono sminuire il più possibile. Io credo che sminuire l'opposizione sia veramente qualcosa di sbagliato in un momento in cui abbiamo bisogno di tutti e il Paese ha bisogno dell'aiuto di tutti quanti. Personalmente vogliamo dare il nostro contributo ai lavori della Commissione sui vaccini. Non ci è interessato questo triatrino fra i partiti rispetto a chi debba fare il Presidente e il Vicepresidente. Non ci siamo scritti e non partecipato a questo aspetto. Abbiamo fiducia sul fatto che se sostegni sarà il Presidente possa però lavorare in questa Commissione ponendo delle condizioni. Io pongo delle condizioni per lavorare in questa condizione, una convocazione permanente della stessa, senza interruzione di continuità, la presenza costante ad ogni riunione del Presidente Gianni perché ogni cosa venga decisa da ora in poi sui vaccini il Presidente possa condividerlo con la Commissione. Queste sono le condizioni che noi poniamo e si possa allo stesso tempo avere l'ausilio di tecnici e di scienziati che possano supportare le decisioni che dobbiamo prendere. Condividere quelli che saranno gli hub da definire, condividere le possibilità e le strategie per coinvolgere le aziende, le associazioni di volontariato, l'eliminazione totale e immediata dei click day per evitare che le persone debbano fare le ore di attesa di fronte a un computer per promotare un vaccino. Chiediamo l'impiego dei medici di medicina generale per poter vaccinare i fragili e soprattutto chiediamo di fare una comunicazione che diventi informazione. Noi vogliamo informare insieme i cittadini toscani, ci aspettiamo che il lavoro di questa Commissione ogni giorno che si va a riunire alla sera dia comunicazione sia questa, la comunicazione istruzionale e formale della Toscana dà ai cittadini in merito ai vaccini e dal giorno dopo si facciano le cose che questa Commissione ha deciso di fare. In maniera collegiale, se c'è una Commissione ha un senso di lavoro, noi siamo per dare una mano, siamo per dare un contributo, non siamo per prendere una poltrona, non ci appartiene, motivo per il quale non abbiamo partecipato alla discussione in merito a una poltrona in più o meno. Non ci serve fare un vaccino in più, è meglio un vaccino in più che una poltrona in meno. Ho fiducia che Sostegni possa guidare e realizzare le condizioni che noi chiediamo. Come forza politica poniamo condizioni nel merito perché vogliamo migliorare la campagna di vaccinazione e vogliamo che a maggio, a giugno e a luglio queste condizioni che poniamo possano migliorare a nostro avviso l'attività di vaccinazione in Toscana. A noi interessa quello, non interessa una Presidenza. Noi abbiamo scelto di non partecipare perché ritenevamo che la Commissione speciale, così per come è impostata, fosse semplicemente un doppione della Commissione terza che si occupa già di salute e sanità e non servisse a nient'altro che a creare un ulteriore elemento dove far accomodare qualcuno. I fatti di oggi di fatto ce lo confermano, sono le 4 e un quarto, la Commissione speciale era convocata per le 14 e 30 per le elezioni del Presidente, ancora non c'è stato dopo due ore di fatto di ritardo, perché c'è stato probabilmente uno scontro su chi farà il Presidente. Da una parte c'era la candidatura portata avanti dal Partito Democratico dell'attuale Presidente della terza Commissione, quindi appunto il doppione. Dall'altra la candidatura avanzata dal Vice Presidente Italia Viva Scaramelli, il quale, abbiamo sentito, chiede, starò dentro a patto che Gianni partecipi costantemente ai lavori della Commissione. Evidentemente ci vuole un elemento di novità rispetto appunto alla terza Commissione, quindi fino ad ora la Commissione speciale non solo non ha prodotto nulla, ma ha prodotto ulteriori elementi di frizione all'interno della maggioranza e all'interno del Consiglio stesso. Io penso che potesse eventualmente avere un senso se c'era comunque una condivisione totale su una Commissione speciale sui vaccini che dovesse in qualche modo sostenere e coadiuvare l'assessore. In realtà produce ulteriori frizioni all'interno della maggioranza e all'interno del Consiglio stesso, quindi parte nel peggiore dei modi. Noi abbiamo deciso come Fratelli d'Italia di starne fuori, per ora i fatti ci danno ragione, vediamo che cosa succede direi nei prossimi minuti e comunque nei prossimi giorni. Uno spettacolo indegno, indegno proprio della peggiore politica che si sente raccontare o si vede nei film. Ecco, oggi grazie all'ostruzionismo, perché non si può chiamare in un altro modo di Forza Italia e di Italia Viva, si è fatto di tutto per impedire la nascita di questa Commissione. Quando fuori ci sono problemi grossissimi, i cittadini non riescono a prenotarsi sul portale predisposto dalla Regione Toscana, addirittura ci sono delle criticità per cui si possono prenotare anche in due liste diverse. Quindi un sacco di problemi che potrebbero essere affrontati in questa Commissione, voluta, ricordo, dal Movimento 5 Stelle e anche dalla Lega, votata dal Partito Democratico. Però oggi si è cercato di tutto per impedire la nascita di questa Commissione. Abbiamo perso un pomeriggio solo per decidere chi doveva fare il Presidente e il Vicepresidente, con tutta una serie di cavigli legati al regolamento che, a mio avviso, sono inammissibili. Sono inammissibili soprattutto in un periodo così grave come quello che stiamo vivendo. Ovviamente la Presidenza di questa Commissione sarebbe stata auspicabile fosse data alla minoranza, ma di fronte alla posizione ferma del Partito Democratico, che ricordo a tutti ha i voti in Consiglio per poter decidere senza il coinvolgimento delle minoranze, uno un po' si adatta rispetto alla possibilità di non avere nemmeno questo strumento, perché abbiamo visto come funziona la Commissione Sanità. L'assessore arriva sempre a pochissimo tempo, risponde frettolosamente alle nostre domande e soprattutto, devo dire la verità, anche l'accettazione delle nostre proposte, delle nostre critiche non trova molto riscontro. Quindi speravamo in questa Commissione per poter avere maggior voce in capitolo, proprio perché vediamo una maggioranza in difficoltà, ma in difficoltà operativa nella gestione di una campagna vaccinale che non solo non riesce a partire, che sconta degli errori iniziali e soprattutto di un portale di prenotazioni che non funziona. Io propongo e veramente vorrei poterlo fare anche in Commissione di passare alla piattaforma di Poste Italiane, perché questa piattaforma non funziona. Ma non avevamo mai visto onestamente una situazione così paradossale. Noi abbiamo votato convintamente il 7 di aprile l'istituzione di una Commissione speciale sui vaccini, perché eravamo convinti che occorreva un salto di qualità nel piano vaccinale, occorreva dare un contributo fattivo alle tante lacune della fase vaccinazione che c'è in Regione Toscana. Per esempio, come la nostra mozione per vaccinare i malati oncologici, anche dopo i sei mesi dalla fine delle cure chemioterapiche o della radioterapia, fino ad arrivare ai cinque anni di follow-up. Eravamo convinti che occorreva, per esempio, vaccinare i caregiver, non solo quelli dei bambini sotto i 16 anni, ma tutti. Eravamo convinti che occorreva accelerare e vaccinare il più velocemente possibile. Poi ci siamo ritrovati oggi con il paradosso che la proposta, senza prima chiamarci, senza prima sentirci, senza prima nemmeno una telefonata della Presidenza della Commissione speciale sui vaccini, sarebbe aspettata naturalmente al Partito Democratico, ma a chi? A Enrico Sostegni, cioè a quello che attualmente è il Presidente della Commissione Sanità. E gli stessi membri della Commissione Sanità il Partito Democratico li ha riportati nella Commissione speciale sui vaccini. Noi l'abbiamo considerato un atto veramente poco coraggioso e soprattutto un atto che non avrebbe fatto né luce né chiarezza, da un lato che non avrebbe portato nessun tipo di contributo. Per questo, come Forza Italia, nonostante avessimo detto di sì all'istituzione, oggi abbiamo detto che non siamo disponibili a partecipare alla Commissione speciale sui vaccini se il tema diventa quello di insabbiare, se il tema diventa quello di non scoprire, se il tema diventa quello di non proporre, se il tema diventa quello di dire va tutto bene. Guardate, soltanto stamani mattina sono arrivate migliaia di persone che non sono riuscite a vaccinarsi. Ecco perché laddove non c'è chiarezza non può esserci Forza Italia. Noi ci auguriamo che cambino il nome del Presidente, avete visto come è andata in Consiglio regionale, addirittura le forze di maggioranza non si sono trovate sul nome di Enrico Sostegni. Non vedo perché si dovrebbero trovare le forze di opposizione o perlomeno Forza Italia non si è trovata perché partecipa ad una condizione, che si faccia chiarezza, che non vi siano equivoci su quello che è successo e che dall'altro si proponga. Se deve diventare una Commissione passatempo noi non siamo disponibili, se deve diventare una Commissione dove non si fa chiarezza noi non siamo disponibili. Se invece si sceglierà di cambiare il Presidente, cioè di far fare il Presidente a una persona che non ha avuto fino ad oggi responsabilità, come il Presidente Sostegni facendo il Presidente della Commissione di Sanità, allora saremo disponibili a partecipare, come abbiamo detto fin dall'inizio, a portare un contributo fattivo, a portare le nostre idee così come abbiamo fatto fino ad oggi. Ma se questo non dovesse succedere noi non siamo disponibili. Ma guardate, quello che è successo ha del clamoroso, nel senso che il Presidente, la terna dell'ufficio di Presidenza proposto dalla maggioranza, non ha avuto i voti della stessa maggioranza che sostiene il Presidente Gianni e che si è presentata alle elezioni insieme. A noi non ci hanno mai appassionato le diatribe all'interno della maggioranza. Noi pensiamo che oggi bisogna pensare alla fase vaccinale, ad accelerare i vaccini, a vaccinare tutti, a vaccinare i frasi. Ci sono centomila fragili ancora in attesa. Certo è che qualora si dovesse dimostrare in Consiglio regionale, che non esiste una maggioranza, ci sono solo due opzioni. O facciamo una verifica immediatamente, ed è quella che noi chiederemo in Consiglio regionale martedì e mercoledì prossimo, oppure c'è la via maestra, quella delle elezioni. Noi non abbiamo paura di andare alle elezioni, sapremo presentarci agli elettori con un centrodestra compatto, con una proposta credibile e credo anche che il centrosinistra in questi sei mesi abbia dimostrato la sua incapacità a gestire una situazione complessa come questa. Da un lato una fase vaccinale che fa acqua da tutte le parti e dall'altro nessun sostegno per sostenere quella che è la più grande crisi economica da dopoguerra ad oggi.